Ciao amici, buonasera, mi chiamo Robson e vorrei innanzitutto ringraziarvi di essere presenti al nostro quarto webinar in italiano intitolato Creazione di prospettive uniche con Clip Studio Paint e questo webinar sarà presentato da Simone Ferriero. Ciao, ciao a tutti. Benvenuto Simone. Grazie. Prima di cominciare, come al solito, vorrei condividere con voi qualche istruzione riguardo a questo webinar. Questo webinar sarà registrato e avrà durazione di circa un'ora. Tutti voi sarete muti e la sezione domande e risposte sarà riservata agli ultimi 10-15 minuti del webinar. Voi potete porre domande in tempo reale nella casella delle domande sulla piattaforma CoachWebner. E ovviamente per motivi di tempo non sarà possibile rispondere a tutte le domande, ma faremo del nostro meglio. Questo webinar sarà registrato, così voi potete riguardarlo quando volete e condividere con gli amici. La registrazione verrà pubblicata nei social e inviata a tutti gli iscritti e partecipanti per mail. Mario Quinones, Simone Ferriero ed io, Robson Ribero, siamo i moderatori di questo webinar. A chi si collega per la prima volta o chi ancora non conosce Clip Studio Paint, Clip Studio Paint è la vostra soluzione multifunzione per illustrazioni, fumetti, manga e animazioni splendidi e pronti ad essere pubblicati. Per sapere di più, cliccate sul link www.clipsudiopaint.net.it o www.graphicsly.com E a proposito, se ci taggate nei profili seguenti, condivideremo molto volentieri le vostre stories su Instagram. Allora non esitate di taggarci su sims.art, chiocciola ovviamente, chiocciola Graphicsly, Wacom o Clip Studio Official. E finalmente diamo il via al webinar intitolato Creazione di prospettive uniche con Clip Studio Paint con l'artista napoletano Simone Ferriero, altrimenti detto sims.art.social, due illustratore e fumettista, disegna utilizzando Clip Studio Paint e acquarelli digitali. Ha recentemente iniziato un nuovo progetto chiamato Coast Cats & Tea, al momento pubblicato su Webtoon. E senza aspettare oltre, invito Simone ad iniziare, grazie di essere qui con noi, benvenuto e spacca a tutti. Grazie. Andata? Funziona? Non credo che... si vede lo schermo? Credo di sì, immagino. Ok, perfetto. Ok, so... ah no, in italiano. Stavo iniziando a parlare in inglese, l'abitudine. Ok, ciao a tutti ragazzi. Allora, parto subito con, diciamo, l'argomento del giorno, che è prospettive. Allora, come tutti probabilmente sanno, ci stanno vari tipi di prospettive, io nei miei disegni, diciamo che uso diversi tipi di prospettive, principalmente, diciamo che non ho un approccio molto tecnico all'argomento, però diciamo che i principi fondamentali della prospettiva li rispetto quanto più possibile, anche se, diciamo che, gran parte dei miei lavori, la prospettiva la faccio a occhio, non utilizzo strumenti o che. Questo fa sì che, innanzitutto, posso andare più veloce e poi mi aiuta anche perché posso distorcere un po' la prospettiva, un po' come mi pare, e, diciamo, viene un risultato che a me piace di più, è più libero, è un po' più vicino a quello che potrebbe essere una illustrazione per libri per bambini o qualcosa del genere. Io, appunto, di solito vado a occhio, però per questo specifico seminario, webinar in inglese, voglio sicuramente prima di tutto fare una, diciamo, una prima mano di spiegazione, diciamo, canonica della prospettiva, che spero aiuti, che spero vi aiuti. Quindi, iniziamo dalla... Allora, io vorrei dire, innanzitutto, che cosa è la prospettiva? Vabbè, è la tecnica che si usa nel disegno per disegnare, per illustrare uno spazio tridimensionale in due dimensioni, quindi su uno schermo o su un foglio di carta, quindi la realtà è in tre dimensioni e noi disegniamo in due, quindi bisogna, diciamo, convertire quello che vediamo, fare una proiezione, diciamo, bidimensionale della realtà. E quindi, su questo, vabbè, diciamo che è la base, è meglio menzionarlo, così ce lo togliamo di torno. Quindi, la prospettiva si può fare in mille modi diversi, come probabilmente già saprete, ci sta la prospettiva a un punto, due, tre, quattro, cinque. Iniziamo da quella a un punto, che è quella più semplice, e parto subito dicendo che la prospettiva a un punto è praticamente... la prospettiva a un punto, a due punti, a tre punti, a quattro, a cinque. Alla fine sono tutti parte della stessa prospettiva, dello stesso concetto, che praticamente sarebbe qualcosa del genere. Diciamo che questa è una visualizzazione bidimensionale di come più o meno funziona una prospettiva a cinque, a sei punti, ma il punto è che la prospettiva a un punto è come se fosse una piccola porzione, una semplificazione di qualcosa del genere. Quindi, quando noi disegniamo con una prospettiva a un punto, in fondo è come se stessimo prendendo un piccolo pezzettino di una prospettiva molto complicata, come questa, a sei punti, e la disegniamo, diciamo, semplificando le linee che invece di essere curve, come poi vedremo, che diventano in una prospettiva a sei punti o a cinque punti, utilizziamo tutte le linee rette, e quindi diventa molto più semplice visualizzare, diciamo, lo spazio. La prospettiva è una semplificazione, fondamentalmente, di quello che vediamo in tre dimensioni e soprattutto, per esempio, anche se si può notare, anche quando facciamo le foto col telefono, che anche il telefono, quando la prospettiva, se calcassimo le linee anche di una fotografia col telefono, vediamo che in realtà non esistono linee perfettamente dritte, ma spesso sono curve, perché c'è la distorsione ottica, eccetera, eccetera. Quindi, quando disegniamo e utilizziamo una prospettiva ad un punto con linee perfettamente, diciamo, dritte, perfettamente, con zero curvatura, stiamo semplificando un problema più complesso, cercando di renderlo, diciamo, piacevole e alla vista, e facendo sì che chi vede poi il disegno riesce a capire che cosa abbiamo disegnato, perché, come potete immaginare, se disegniamo un oggetto con una prospettiva a cinque, sei punti, diciamo, tutta curvilinea, come vedete qua, le cose si fanno più complicate, e spesso potrebbe diventare meno leggibile, quindi la prospettiva più semplice, forse quella più leggibile, una delle più leggibili, è quella a un punto, però, ovviamente, meno punti abbiamo, scusate, l'inglese a volte così capita, meno punti abbiamo, meno, diciamo, possibilità creative, anche abbiamo. Quindi, iniziamo da quella a un punto. Quella a un punto funziona che c'è una linea orizzontale, che sarebbe l'orizzonte, e c'è un fuoco, scusate se non so tutti i termini in italiano, ma molti di questi termini li conosco, mezzi in italiano e mezzi in inglese, quindi, perdonatemi, il fuoco principale sarebbe il punto dove tutte le linee prospettiche convergono. Quella ad un punto, di solito, si usa per corridoi, strade, binari, probabilmente già l'avete vista, facciamo un esempio, qua vediamo già una stanza che ho disegnato con una prospettiva ad un punto, ne faccio un altro, qua, in quest'angolino qua, abbiamo l'orizzonte, e un punto, il fuoco, e tutte le linee che ci serviranno per la prospettiva saranno dritte e devono convergere in questo fuoco. Quindi, se per esempio stiamo disegnando un corridoio, avremo il muro nel corridoio, la porta alla fine del corridoio, l'altro muro, insomma, diciamo, questa è la prospettiva a un punto. Se già vogliamo disegnare, per esempio, cosa c'è da questo lato e da quest'altro lato, quello che possiamo fare è disegnare linee orizzontali, così, giusto per, però diciamo che ci dobbiamo fermare a quello che vediamo, diciamo, in questo campo qua, e tutto deve convergere verso il centro, quindi di solito si usa appunto per corridoio, oppure per i binari, che ne so, ci abbiamo i binari con tutte le divisioni, e vanno in questo senso, poi abbiamo l'albero, però piatti, tutte cose piatte, quindi non abbiamo altri punti prospettici, quindi tutto ciò che non converge nel punto deve essere praticamente fatto con linee che vanno in una griglia piatta, così, quindi molto semplice. Quindi se abbiamo un albero, per esempio lo disegniamo così, perché se iniziamo a dare, diciamo che se vogliamo, se disegniamo un palazzo, che poi ha una prospettiva che va in questa direzione, abbiamo inserito un altro punto, che poi ci porta appunto alla prospettiva a due punti, che adesso andremo a vedere. Quindi diciamo che se disegniamo un palazzo, una prospettiva a un punto, abbiamo la possibilità di utilizzare questo punto per la prospettiva, ma tutte le altre parti devono essere piatte, quindi devono seguire una griglia, perché abbiamo un solo punto, e quindi l'unico punto di fuga è questo, diciamo, è questo qua che abbiamo disegnato. E questa è la prospettiva ad un punto, che io personalmente non uso mai, o comunque, poi vedremo, vi spiegherò brevemente, perché uso molto molto poco questo tipo di prospettiva, o se anche la uso, gli do sempre una piccola, diciamo, una piccola aggiunta, diciamo, un piccolo dettaglio in più, poi dopo ve lo spiego. Quella ha due punti, è praticamente come se avessimo una prospettiva ad un punto, però ce ne abbiamo un altro, che ci aiuta appunto a disegnare oggetti visti di tre quarti, diciamo, quindi leggermente rotati. Quindi, ad esempio, se guardiamo soltanto il punto 1 e vediamo che qua abbiamo l'orizzonte, il punto 1, immaginate che questa è una prospettiva ad un punto, come abbiamo visto prima, e abbiamo questo muro con i poster su questo lato qua. Introducendo il secondo punto, che vediamo qua a destra, abbiamo appunto la possibilità di fare, di vedere il corridoio, diciamo, come in prospettiva, anche dall'altro, diciamo, dall'altro lato, quindi, mentre nella prospettiva ad un punto avremmo dovuto disegnare questo lato qua, in questo modo, con la prospettiva a due punti, abbiamo la possibilità di mettere in fuga, in prospettiva, anche quest'altro, quindi, per disegnare una situazione del genere, diciamo, una situazione ad angolo, un angolo di una strada, oppure, uno scatolo, qualsiasi cosa, che è di tre quarti, diciamo, abbiamo bisogno, almeno, della prospettiva a due punti. Ma diciamo che nemmeno questa, io utilizzo tantissimo, quella che forse, utilizzo più spesso, è quella a tre punti, che adesso vedremo, quindi, un punto, abbiamo un solo punto di fuga, due punti, abbiamo due punti di fuga, e quindi, diciamo, per i tre quarti, tre punti, di solito, è una prospettiva che si usa, o per quando vogliamo creare qualcosa, vogliamo disegnare una scena dove noi stiamo guardando la situazione dall'alto, o una situazione, o stiamo disegnando una scena dove vediamo la situazione dal basso. In questo caso ho fatto la situazione dall'alto, quindi abbiamo orizzonte, punto 1 e punto 2, che sono identici alla situazione che abbiamo analizzato nel punto, nella prospettiva a due punti, il terzo punto, e non è nemmeno sull'orizzonte, in realtà, che è una cosa abbastanza confusionaria, però, è, diciamo, così che va la prospettiva a tre punti, perché praticamente, il terzo punto, si ritroverebbe, appunto, su questa sfera, qui, in realtà, quindi è come se, la storia si fa un po' complicata, però, credetemi, il terzo punto non è sull'orizzonte, e va messo sotto l'orizzonte, nel caso di oggetti visti dall'alto, e sopra l'orizzonte, nel caso di oggetti visti dal basso, quindi in questo caso, vediamo un oggetto all'alto, questa specie di patio, non so che cavolo è, e abbiamo punto numero 1, verso il quale andremo a far convergere tutti, tutte le linee, sul lato, per esempio, su questo lato del patio, e punto numero 2, facciamo convergere tutte queste linee, e il punto numero 3, facciamo convergere tutte le linee verticali, diciamo, invece di averle, seguendo la linea, una griglia, perfettamente, orizzontale, o verticale, come abbiamo visto nel punto 1, nella prospettiva di un punto, che erano, appunto, avevamo tutte le linee, convergevano nel punto centrale, poi tutto il resto, che non converge in questo punto, doveva essere, doveva seguire una griglia, a 90 gradi, diciamo, una griglia quadrettata, così, nella prospettiva, a due punti, la stessa cosa, per quanto riguarda, soltanto però, le verticali, che vedete, vanno parallele, sono parallele, quindi, tutto ciò, nella prospettiva di un punto, tutto ciò, che rimane parallelo, alle linee verticali, e alle linee orizzontali, tranne le linee, diciamo, che appunto vanno in prospettiva, nella prospettiva, a tre punti, nemmeno più le verticali, seguono, sono parallele, quindi non ci sono più linee parallele, tra loro, in questa situazione, cioè, quindi se facciamo due parallele, vanno fuori, fuori prospettiva, nell'altri punti, e con questa prospettiva, forse ci avviciniamo di più, a quello che di solito, tendo a fare, quando disegno, ripeto, senza mettere fuochi, diciamo, punti di fuga, o che, diciamo, che di solito, a occhio, disegno le cose, però, diciamo, che è questo, quello che a mente, visualizzo, quindi, se sto sotto, l'orizzonte, quindi, diciamo, sto guardando verso il basso, tutti gli oggetti, andranno a convergere, verso un punto, che si trova, il punto numero tre, in questo caso, che si trova sotto, l'orizzonte, se, ad esempio, avessi, e adesso faccio, vado a spostare un attimo, questo, diciamo così, copia e incolla, nascondiamo questo, facciamo un altro punto, sopra, il punto numero, facciamo il punto numero tre, invece di stare sotto, si trovasse, se facciamo, si trovasse sopra, e stiamo disegnando un oggetto, che si trova sopra, l'orizzonte, che appunto è quello, che collega, punto 1 e punto 2, se vado a disegnare, se andassi a disegnare, una scatola, qui, dovrei convergere, le linee, 1 e 2, e poi, tutto, quindi dovrebbe andare a finire, nella, convergere, verso il punto 3, quindi, avremo qualcosa, del genere, ecco qua, quindi, questo, se stiamo sopra, all'orizzonte, abbiamo qualcosa, del genere, quindi, tutte le linee, convergono, le verticali, convergono, verso il punto 3, tutte le linee, orizzontali, convergono, quelle sul lato sinistro, verso il punto 1, quelle sul lato destro, verso il punto 2, se abbiamo qualcosa, in mezzo, diciamo, sull'orizzonte, se avessimo, un oggetto, che si trova, perfettamente, sull'orizzonte, e qua la situazione si fa un po' complicata, e, dipende un po' da come volete semplificare, la, la cosa, diciamo che il sistema che uso, io, è la curvatura, cioè, curvo, faccio come se ci fosse tra punto 3, e, facciamo che questo è punto 4, chiamolo punto 4, che è più semplice, tra punto 3 e punto 4, è come se ci fossero collegati, invece di essere, semplicemente, adesso devo accedere su un lato, su un disegno diverso, così, è più semplice, abbiamo punto 1, e punto 2, e poi punto 3, e punto 4, questo 3 e 4, sono collegati in maniera curva, così faccio, però, diciamo che, si potrebbe anche semplificare, facendo che punto 3, è dritto così, punto 4, è dritto così, e nel caso in cui ci troviamo in mezzo, andiamo semplicemente a dare una piccolissima curvatura, ma il resto, diciamo, resta, perfettamente, gli facciamo seguire perfettamente la, la canonica prospettiva con le linee dritte, quindi, andiamo semplicemente a curvare nel punto, diciamo, se gli oggetti si trovano in mezzo, sulla linea d'orizzonte, però questa è una prospettiva a 4 punti, che adesso andiamo a vedere, quindi, la prospettiva a 3 punti, torniamo indietro velocemente, la prospettiva a 3 punti, ha 2 punti sull'orizzonte, e un terzo punto che si trova o sotto l'orizzonte, o sopra l'orizzonte, nel caso in cui, stiamo vedendo l'oggetto da sotto, e quindi il nostro frame, diciamo, si dovrà andare a fermare sull'orizzonte, quanto meno, cioè, prima dell'orizzonte, altrimenti andiamo in una prospettiva a 4 punti, se abbiamo qualcosa sopra l'orizzonte, in una prospettiva a 3 punti, abbiamo bisogno di un quarto punto di fuga, che sarebbe appunto la prospettiva a 4 punti, quindi, in questo caso, con la prospettiva a 3 punti, dobbiamo prendere tutto ciò che sta sotto l'orizzonte, o sopra l'orizzonte, non in mezzo, praticamente, quanto più possibile. La prospettiva, infatti, ha 4 punti, eccola qua, e come già vi avevo anticipato, abbiamo l'orizzonte, come al solito, punto 1, punto 2, orizzonte, diciamo, le due principali linee di fuga, sono punto 1 e punto 2, poi abbiamo punto 3 e punto 4, che è uguale alla situazione a 3 punti, semplicemente ne abbiamo aggiunto un altro sopra, che possiamo appunto disegnare in questo modo, utilizzando tutte le linee dritte, in questo caso non ci sono linee curvi lì, fino ad ora, prospettiva a 1 punto 2, 3 e 4, non hanno linee curve, solo linee dritte, però, appunto, nel caso in cui, come già ho preparato qui, tutto ciò che è sopra l'orizzonte, tutto ciò che è sopra l'orizzonte, vediamo appunto la parte di sotto, e quindi segue la prospettiva, diciamo, come se fosse una prospettiva a 3 punti, soltanto guardando il punto 4, come terzo punto, e nel caso in cui siamo sotto l'orizzonte, è una prospettiva a 3 punti, guardando il 3 come terzo punto, se siamo in mezzo, praticamente dobbiamo vedere sia 4 che 3, quindi sia 3 e 4, e andiamo a curvare, come ho fatto qua l'esempio, quindi andiamo a curvare come se, la parte che sta sopra l'orizzonte, vuole andare verso il 4, e la parte che sta sotto l'orizzonte, vuole andare verso il 3, e questo è un modo per semplificare il disegno, quindi per esempio abbiamo un altro edificio qua, andremo a fare una cosa del genere, proprio pazzissima, però è tipo una cosa del genere, quindi le linee vanno a convergere verso il punto 2 qua, queste vanno a convergere verso il punto 1, questa verso il punto 1, questa verso il punto 2, ma le linee verticali vanno a convergere un po', quelle sopra l'orizzonte verso il punto 4, e quelle sotto l'orizzonte verso il punto 3, distorcendo un po', curvando un po', poi se invece non c'è questo, diciamo l'oggetto è completamente sotto o sopra, semplicemente andiamo con le linee dritte, molto semplice, così, e andiamo a fare cose, una cosa del genere, diciamo, così, così, e questa qui va così, ah, piccolo dettaglio, quando si va con la scettiva un punto, easy, molto facile, non potete sbagliare con questa, perché è difficile, c'è praticamente, se è tutto all'interno del corridoio, diciamo che andiamo a creare, o della strada, o che che sia, non si può sbagliare, non ci saranno, perché tutte le linee verticali e orizzontali sono perfettamente, seguono perfettamente la griglia, se stessa cosa più o meno per prospettiva a due punti, stessa cosa per prospettiva a tre punti, quando si va con la prospettiva, forse no, già con la prospettiva a tre punti, è meglio stare all'interno di questo triangolo che si va a creare tra appunto uno, due e tre, perché se andiamo fuori dal triangolo, so cavoli, perché praticamente comincia a diventare come se fosse una prospettiva a cinque, a sei punti, insomma la roba diventa molto distorta, quindi se per esempio andiamo a disegnare un tavolo che si trova fuori da questo triangolo, praticamente le linee devono seguire, devono seguire una prospettiva, diciamo, del genere, e andare a fare, fatto tipo così, e come potete vedere, è molto molto distorta, perché poi in realtà questi punti, le verticali devono andare verso il tree, quindi avremo i piedi del tavolo, hanno così, cioè quindi quello che sta in mezzo al triangolo è abbastanza diciamo fattibile, sembra gradevole alla vista, appena usciamo fuori dal triangolo, immediatamente c'è una distorsione assurda, un po' come quando facciamo le foto col telefono con il grande angolo, sai, con la modalità, diciamo quella là, con il grande angolo, quello là, avete presente che sto parlando, si vede tutto, ai lati si vede tutto distorto, pure le facce, quindi tutto quello che c'è in mezzo, al centro di questo triangolo, invece è abbastanza guardabile, e quindi va bene. A quattro punti, è la stessa cosa, è meglio stare all'interno dei quattro punti, quindi appena usciamo fuori, infatti questo qua che ho disegnato, questo cubo che ho disegnato, che sta un po' fuori, diciamo sta al limite, diciamo dello spazio delimitato da questi quattro punti, inizia a diventare distortissimo, è bruttissimo, è magari figo pure da vedere, però se non è gestito bene, la roba diventa confusionaria, è non molto leggibile. Quindi la perspetta a quattro punti è praticamente la perspetta a tre punti, con un punto sia sopra che sotto l'orizzonte, e qui è in mezzo, abbiamo la curvatura. Adesso andiamo alla quella 5 e a 6. Le attacce 5 e 6 sono abbastanza collegate, tra di loro, perché una volta che abbiamo capito quella 5, quella 6 è praticamente il duplicato dall'alto, e ora ve lo spiego con calma. Cominciamo da quella 5. 5 punti significa che è identica a quella 4 punti, però tutte le linee che collegano, punto 1, punto 2, punto 3 e punto 4, come abbiamo visto fino ad ora, invece di essere rette, non si possono fare più rette, dobbiamo fare curve, dobbiamo curvare, un po' come facevamo qua, in mezzo all'orizzonte, adesso dobbiamo curvare tutto, quanto più possibile, in modo tale da dare questa curvatura. Ovviamente possiamo sempre semplificare, ripeto, io non sono mega tecnico su questi aspetti, faccio un po' quello che mi pare, però il punto è, se vogliamo fare una processità 5 punti, quello che abbiamo è 4 punti, più il quinto che si trova di solito in mezzo, e sarebbe semplicemente, adesso ve lo ridisegno su un'altra sezione, quindi abbiamo orizzonte, punto numero 1, punto numero 2, classico, punto numero 3, glielo mettiamo qua sopra, punto numero 4 sotto, e quindi questa è una normale, per sfida a 4 punti, però i collegamenti, stavolta li dobbiamo fare tutti curvi, quindi verrà una cosa del genere, un abominio del genere, e poi, quindi non ci sono più griglie dritte, come invece avevamo all'inizio, e il quinto punto si trova qua, diciamo, al centro, anche se in realtà lo potremmo anche spostare, dovunque lo volete mettere, va bene, l'importante è che sta sulla linea d'orizzonte, altrimenti sono casini, e quindi colleghiamo tutte queste linee in maniera curva, in questo modo, questa è una prospettiva a 4 punti, però tutti i punti sono curvi, più il punto centrale, che appunto è il quinto famoso punto, che è praticamente una prospettiva ad un punto, il quinto punto funziona come la prospettiva ad un punto, quindi sono tutte linee che possiamo fare rette, in questo modo, ok? Quindi possiamo fare tutte le linee rette così. Il risultato finale, ve lo faccio vedere in questo modo, adesso taglio questo pezzo, lo incollo qui, lo faccio diventare blu, velocemente, e andiamo ad utilizzare questa prospettiva a 5 punti, per dare uno sguardo a come si fa, quindi tutte le linee che stanno vicino, verso il punto 1, seguiranno questa curvatura qua, quindi abbiamo una cosa del genere, tutte le linee verticali saranno curve, seguendo, andando quelle sopra l'orizzonte, verso il punto 3, sotto l'orizzonte, verso il punto 4, quindi così, quindi qua così, questa seguirà la curva che collega punto 1 e punto 2, mi sto facendo una casa, un edificio, una cosa del genere, e quindi abbiamo una situazione, ah, e tutte le linee che invece, diciamo, definiscono il volume degli edifici, o di qualsiasi cosa stiamo andando a disegnare, andranno a convergere verso il quinto punto di fuga, che abbiamo appena inserito, quindi nella prospettiva 4 punti, i punti di fuga erano 4, e quindi tutte le linee di fuga, che davano la sensazione di curvatura, andavano verso 1 e 2, nella prospettiva 5 punti vanno verso il centro, e quindi abbiamo come finale, cioè in pratica, una, come se fossimo, come se stessimo vedendo una semisfera, infatti, è una prospettiva, diciamo una semisfera, come se stessimo vedendo, immaginate una sfera, a specchio, e abbiamo un risultato del genere, penso che avete, sicuramente su internet avete visto qualche volta, che si usa anche per esempio in fotografia, quando si fanno i, come si chiamano, le fotografie, le photospheres, le fotografie asferiche, che si fanno pure col telefono, diciamo che il risultato è una cosa del genere, adesso questa prospettiva ha 5 punti, perché noi stiamo guardando verso il punto 5, e abbiamo una prospettiva 4 punti, quindi tutto ciò che ci circonda, è curvato, perché appunto, non è, quindi il quinto punto è come se fosse una prospettiva ad un punto, però il resto deve essere curvato, altrimenti non ci troviamo, potremmo andare con linee dritte, un po' come abbiamo fatto con la prospettiva a 4 punti, usare tutte le linee dritte, e tutto ciò che, che diciamo attraversa, questa, adesso vi faccio vedere, potremmo andare con una cosa del genere, fare così, e quindi così, e quindi abbiamo poi tutte le, questo è il punto 5, questo è il punto 1, questo è il punto 2, questo è il punto 3, a tutte le linee, e tutte le volte che siamo in mezzo, diciamo, su questa croce, le linee verticali o orizzontali vanno a curvarsi soltanto in questa, in questa, in questi, nei punti dove va ad attraversare questa croce, però diciamo che, secondo me, il sistema più logico e chiaro, a questo punto, una volta che ci siamo addentrati, ci siamo appropinquati, a prospettiva, a 5 punti, andiamo direttamente a fare tutto curvo, quindi 3, 4 collegati con linee curvilinee, 1 e 2 con linee curvilinee, e la prospettiva, e il numero 5, con linee rette, che però, sorpresa, sorpresa, potrebbero essere curve anche se, quindi abbiamo, facciamo un esempio, 1, 2, 3, e 4, e abbiamo, 5 in mezzo, che possiamo andare a fare con, una prospettiva, diciamo, che va così, per esempio, voi direte, ma perché? e adesso spiego, un attimo che faccio sta cosa, quindi tutte le linee 1 e 2 collegati così, 4 e 5, 3 e 4 collegati così, e il 5, come potete vedere, fa una specie di curvatura che, nella prospettiva, dove vanno queste curve, vanno a finire in realtà, verso il punto 6, nella prospettiva, a 6 punti, quindi, il punto 5, le linee potrebbero essere rette, per semplificarci la vita, quindi se andiamo alla prospettiva 5 punti, possiamo utilizzare linee rette, ma possiamo curvarle, curvarle come tecnicamente, collegandole al punto 6, in questo modo, e quindi tutte le linee, potrebbero andare a collegarsi, in quel modo lì, come vi sto facendo vedere, quindi abbiamo punto 1, 2, 3 e 4, nella prospettiva 5 punti, ma se entro, diciamo al punto 6, le linee dal punto 5, invece di essere rette, nella prospettiva 5 punti, sono rette, tecnicamente, diventano curve, e vanno a collegarsi al punto 6, che a sua volta, ha la stessa identica, forma, e diciamo, griglia, della prospettiva 5 punti, infatti, il punto 1, di solito, è questo qui, che si trova, da quest'altro lato, è il punto 6, quindi punto 5, centrale, punto 6, centrale, 1, è collegato a questo, quindi in realtà, questo è 1, come fare a visualizzare, questa cosa, in maniera logica, è molto semplice, in realtà, adesso vi faccio uno schemino, molto più semplice, la prospettiva 6 punti, sarebbe come una sottospecie di sfera, quindi come se avessimo una sfera, questo è il nostro orizzonte, facciamo qua il punto 5, qua il punto 6, poi abbiamo punto 1, punto 2, punto 3, e punto 4, e quindi, quando noi introduciamo il punto 6, punto 5 e punto 6, sono collegati da delle curve, se noi, immaginate il planisfero, lo andiamo ad aprire, abbiamo di solito, una cosa che, va un poco così, diciamo, non so se avete mai visto il mappamondo, diciamo, diventa a spicchi spesso, il mappamondo infatti diventa a spicchi, però qua, la questione è che, si fa molto tecnica, è complicata, e la storia è molto semplice, noi stiamo facendo dei disegni, quindi dobbiamo fare in modo tale da disegnare, cioè potete fare un po' quello che vi pare, andare molto tecnici, e capire perfettamente la prospettiva, come si fa ad aprire una sfera, e avere una visione, a 6 dimensioni, eccetera, eccetera, oppure, semplificate la storia, e cercate di utilizzare la prospettiva per fare dei disegni, se questo è il vostro scopo, quindi la prospettiva ha 6 punti, di solito è come se fosse, come se vedessimo sia la parte, diciamo, immaginate che abbiamo una finestra, qua, faccio un esempio, facciamo un esempio più semplice, cioè no, questo 1 e 2, andiamoli a mettere un poco in prospettiva, diciamo, ok, è come se avessimo una finestra, quindi come se dividessimo la sfera in due parti, di solito, quando disegniamo la prospettiva a 5 punti, vediamo un solo lato della sfera, quindi è come se avessimo una semisfera, così, quindi il punto 5 sta qua, poi abbiamo la prospettiva, punto 1, 2, 3 e 4, e l'altro lato della sfera è così, e quindi abbiamo questa curva, questa curva, 6, e quindi abbiamo 1 qua, 2 qua, 4 qua, e 3 qua, e quindi questa è una sfera tagliata a metà, poi se prendiamo questa, questo è lo schema che stiamo vedendo, se lo andiamo ad aprire, abbiamo la prospettiva come vi ho spiegato fino ad ora, qua, praticamente questa sarebbe, questa visualizzazione sarebbe uno schema, diciamo, che è utilizzato in arte, per rappresentare mezza sfera, unita all'altro mezza sfera, abbiamo la prospettiva a 6 punti, che appunto si può essere utilizzata, spesso viene utilizzata per esempio nei videogiochi, oppure possiamo vederla anche quando si fanno le panoramiche, con la fotografia, e abbiamo questo schemino fatto così, che appunto sarebbero tutte queste linee, che convergono in questo modo che vi sto mostrando, quindi è abbastanza complicato, poco usata, e io direi che quella più utile forse è quella a 4 e a 5 punti semplificata. Adesso che vi ho spiegato più o meno, comunque potete rivederlo a sto seminario, comunque in qualche modo, se vi siete persi un poco qualcosa, ma è molto complicata per aspettare a 5 e 6 punti, diventa molto molto geometrica. Andiamo a vedere qualche, esempio dei miei disegni, un poco come la uso, ripeto, a occhio quasi tutto, quindi non utilizzo schemi particolari, e se infatti andate a tirare le linee prospettiche, le linee di fuga sui miei disegni, sicuramente andate a notare che molte linee non convergono perfettamente in un punto, ma diciamo a occhio vanno in una zona che è vicina. Ad esempio, disegno numero 1, questo qua l'ho selezionato insieme agli organizzatori di questo seminario, perché è uno dei disegni che ho notato, che ho utilizzato una perspettiva più o meno a un punto. Perché a un punto? Andiamo a vedere, come vi ho fatto vedere fino ad adesso, abbiamo il personaggio seduto, e quest'altro fantasma, cosa che gli sta sulle spalle, e se andiamo a tirare la linea d'orizzonte, adesso la vado a tirare, eccola qua, diciamo che più o meno è là la linea d'orizzonte, il divano, tutto converge verso un punto unico, che tra l'altro, aspettatevi, vi faccio vedere in questo modo, cambio la dimensione della nostra immagine, così posso disegnare i punti di fuga, in maniera più che potete vederli, eccoci qua. Quindi questa sarebbe una perspettiva più o meno a un punto, anche se poi andiamo a vedere, ci stanno delle piccole distorsioni qua e là che ho inserito, che potrebbero dare, potrebbero sembrare prospettiva a più punti, però più o meno è un punto, perché abbiamo l'orizzonte, abbiamo tutto converge verso questo punto di fuga, che si trova fuori dalla nostra immagine, però ripeto, io non l'ho disegnato a questo punto, quindi c'è a occhio, però diciamo che se volete andare precisi, precisi, vi potete andare a mettere a disegnare tutte le cose, e se vedete qua, le linee verticali sono perfettamente verticali, quindi non c'è grossa distorsione, le linee orizzontali sono perfettamente orizzontali, come per esempio il divano qua, qua dritto più o meno, oppure qua va dritto, quindi diciamo che è una versettiva ad un punto, e il punto di fuga sarebbe, come dire, il punto di messa a fuoco, no, come si chiama, il punto di fuga, è questo qui, e quindi questa sarebbe una versettiva, e questo è un esempio di come io ho utilizzato una versettiva ad un punto per un disegno, però, piccolo dettaglio, adesso voi che avete un poco iniziato a capire come va la prospettiva, ci stanno dei punti dove uno potrebbe dire, ma qua tu, cioè hai fatto tipo la distorsione, cioè è distorto, quindi non è che, non è perfettamente verticale, per esempio questa scatola gli ho dato una piccola distorsione così, ma il punto è che per esempio ho fatto la stessa cosa, cioè questa linea qua del divano pure va in questa direzione, quindi vanno, seguono un po' con una prospettiva che potrebbe essere un po' a tre punti, quindi una cosa del genere, come se ci fosse un terzo punto molto molto lontano, e lì in alto non so dove. Sì, più o meno è una prospettiva a tre punti, però è molto 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 vicina alla prospettiva, a un punto. E questa quindi è un esempio che ho voluto far vedere per la prospettiva da un punto. Passiamo a quella due punti, molto molto rapidamente, ingrandisco il canvas, come si dice, lo spazio di lavoro, e un attimo, eccoci qua, faccio grigio così potete vedere la linea bianca, eccoci qua, e la linea d'orizzonte, indovinate dov'è? Qua più o meno. Possiamo anche trovarcela molto semplicemente tirando le linee, diciamo, di prospettiche, prendendo un punto qua sul lato sinistro, linee prospettiche qua sul lato destro, quindi diciamo che l'orizzonte si trova qua, collegando queste due linee. Tutto il resto, come abbiamo visto, nella prospettiva ha due punti, le verticali, quindi l'unica cosa che resta, le verticali, le orizzontali sono diventate tutte, diciamo, oblique, in realtà, quindi non ci sono più, non seguono più una griglia a 90 gradi perfetta così, ma tutto diventa, o va in direzione del punto A, o tutto va in direzione del punto B, quindi non c'è più linee orizzontali perfettamente parallele all'orizzonte, non esiste più un orizzonte parallelo, e quindi tutte le linee seguono questa prospettiva qua, quindi come potete vedere, tutti gli oggetti che si sono andati a mettere in prospettiva, ripeto, a occhio, però la casa in prospettiva, tutta questa griglia in prospettiva, tutta questa roba qua, tutto in prospettiva, va più o meno tutto in quest'area qua. Stessa cosa su quest'altro lato qui, le verticali tutte dritte, questo ha semplificato un po' la vita, e quindi buona. Adesso vi faccio vedere invece la prospettiva a tre punti. Questa qua è a tre punti, facciamo lo stesso servizio velocemente dello spazio di lavoro un attimo, perché le linee di fuga così, che vedete bene. eccoci qua, andiamo a mettere questo. Adesso mi esplode il computer. Eccoci qua. Adesso abbiamo l'orizzonte, qua le cose diventano un poco, l'orizzonte è molto, molto lontano in realtà, cioè nel senso, i due punti di fuga sono molto distanti, e sono più o meno collegati in questo modo, così, e come potete vedere, anche se una prospettiva a tre punti, tecnicamente dovrebbe essere tutte linee dritte, io tendo sempre a dare una piccola curvatura. Possiamo vedere per esempio qua, sul tavolino, che tende a curvare leggermente in questo modo, però il punto è che la lezione, diciamo, la storia è sempre la stessa, cioè punto 1, punto 2, ci sono linee che vanno in questo modo, linee che vanno in quest'altro modo, e come potete vedere, tipo per esempio qua i libri, vi nascondo un attimo la cricchia, questi libri seguono la prospettiva, quindi tendono ad andare verso il punto 1, oppure abbiamo, che ne so, sta busta qua che va verso il punto 2, oppure abbiamo, che ne so, vediamo qualche altra cosa, ecco, la testata del letto, che va in direzione, diciamo, del punto 1, su questo lato qua, e in direzione del punto 2, su questo lato qua, eccetera, tutti gli oggetti quindi vanno più o meno in direzione del punto 1 o 2, la seconda che si trovano, diciamo, a sinistra o a destra, diciamo, del nostro, del nostro centro virtuale, diciamo, del punto di vista, diciamo, dell'oggetto che stiamo andando a disegnare. E però abbiamo anche appunto il terzo punto, che in questo caso, diciamo che è un po' dal basso, perché stiamo vedendo questo personaggio che gioca la Switch dall'alto, e quindi andiamo a vedere che il terzo punto si troverà probabilmente in basso, quindi avrò, cioè, ho immaginato che ci siano, immaginate che ci fossero delle linee che partono dal basso, un po' curve, come potete dire, un po', c'è proprio una cosa che mi viene naturale di fare sempre, curvarle un poco così, e, oh, ho segnato sul livello sbagliato, classico, ecco qua, così, oh, due, ecco qua, quindi un po' che seguono questa, questa, questa curvatura qua, e se andiamo a vedere, tutti gli oggetti sul tavolo, seguono un po' questa curva, quindi per esempio, questa tazza, qua, va in questa direzione, questo va in questa direzione, questo va così, qua va così, però se andiamo su quest'altro lato qua, diciamo che, per esempio, già iniziamo a vedere che queste parti vanno in questa direzione qua, questa busta segue questa direzione qua, questa segue questa direzione qua, ma io non è che sto là a pensarci così tanto, quindi mi viene un po' naturale farlo, anche per esercizio, ma diciamo che ci sono mille imperfezioni, quindi se volete essere proprio pignoli, andate a disegnare tutte le linee, andate a tirarvi tutte le linee di prospettiche, e vedrete che più o meno la prospettiva vi funzionerà abbastanza bene, io però che cosa faccio? Di solito prediligo, invece di partire dalla griglia, e cercare di disegnare all'interno della griglia, che mi stressa, faccio prima lo sketch, diciamo del personaggio, lo metto in posa, tipo in questo caso ho disegnato questo personaggio qui, in posa, dopodiché ho messo il tavolino, ho messo le cose, e poi mi vado a correggere tutte le linee, pian pianino, cerco di fare in modo tale che rientrano all'interno di una prospettiva che abbia senso, minimamente senso. Però appunto, ripeto, questa è una semplificazione di una prospettiva a tre punti, perché in realtà ci sta anche il, è come se fosse una sorta di prospettiva, in realtà a cinque punti, perché poi ci sta anche in realtà il punto centrale qua, con tutte le linee che possiamo vedere, che seguono questa, 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 queste linee di fuga qui, il let, eccetera, eccetera, quindi abbiamo questo punto centrale, quindi è come se fosse una prospettiva a cinque punti in realtà, perché ci sta punto uno qui, punto due qui, quindi tutte le linee collegano così, poi abbiamo punto tre, che va così, in realtà poi forse un po' dall'alto pure, ci sta un po' di prospettiva che va in questo senso qua, quindi apriamo pure un punto quattro, e poi il punto cinque. però, dato che vi volevo far vedere un esempio, se fosse una prospettiva a tre punti, penso che questa sia la cosa più vicina a quella a tre punti, io, ripeto, non, non sto lì a pensare, faccio a tre punti, a quattro punti, inizio a disegnare, poi se mi servono delle, devo inserire tutto all'interno di, diciamo, una griglia, che di solito va così, a volte sto più zoomato, diciamo, e prendo soltanto una piccola porzioncina di questa sfera, altre volte sto più lontano, ma non penso, adesso faccio a un punto, a due punti, tendo a seguire una curva, sempre, su tutte le linee, però diciamo che questo è quanto più vicino c'è, che ho trovato, quasi prima del seminario, ad una prospettiva a tre punti, quindi linee verticali, vanno verso il punto in basso, linee orizzontali, che vanno verso il punto due, o il punto uno qua, e andiamo all'ultimo esempio, che è una prospettiva a quattro punti, e vediamo che appunto, è un po' con la stessa storia, di quella che vi ho fatto vedere adesso, change canvas size, andate a cambiare un attimo, anche qui, il nostro sfondo, lo vado a fare grigio, velocemente, e vado ad aggiungere, ora mi esplode il computer, 100%, la memoria collassa, un attimo, ho fatto troppo grande questo, questo canvas, e ok, quindi abbiamo linea d'orizzonte, che si trova presso a poco, in questo punto qua, adesso abbiamo una prospettiva ad un punto, tecnicamente, giusto? Tutte le linee che convergono, vedete, verso un punto centrale, dietro la testa della ragazza, quindi abbiamo presso ad un punto, quindi le travi sul soffitto, però, se vedete, c'è sempre un po' di distorsione, quindi anche qua, seguiamo, seguo un po' con una distorsione, così, un po' sferica, diciamo, quindi come se fossero, lo settea a 5 punti in realtà, però, diciamo, che questo esempio l'ho selezionato, e quindi andiamo ad analizzare, guardandolo, come se stessimo guardando, lo settea a 4 punti, quindi abbiamo un punto centrale, che però, appunto, come nell'esempio di prima, non vado a contare, perché, appunto, abbiamo, quindi, il punto di sopra, il punto di sotto, sinistra e destra, e quindi abbiamo, punto 1 e 2 sull'orizzonte, ok, punto 3 e 4 sopra e sotto, che si vanno a collegare, diciamo, in maniera curvilinea, sopra e sotto, in questo modo, più o meno, e 1 e 2 invece vanno più o meno dritte, così, oppure le possiamo collegare, con una curva, in questo modo, però, diciamo che possono andare dritte, tranquillamente, così, quindi, questo è un esempio, di questo, di questo, a 4 punti, o a 5, se in realtà è 5 punti, però, facciamo un esempio, a 4 punti, tutto ciò, che si trova, su questo lato sinistro, diciamo, va a collegarsi, verso il punto 1, tutto ciò che si trova, sopra l'orizzonte, va verso il punto 4, le verticali, vanno verso il punto 4, e le verticali, invece, che si trova sotto l'orizzonte, vanno verso il punto 3, e tutto ciò che si trova a destra, va verso il punto 2, e quindi, come potete vedere, questo è un esempio, di prospettiva, diciamo, a 4 punti, o a 5, se appunto, aggiungiamo il punto centrale, che dà una prospettiva, diciamo, che è come se fosse una prospettiva, ad un punto, in realtà, e quindi, come vi ho fatto vedere, va tutto, converge in maniera verticale, verso il punto centrale, quindi, è presso a poco la stessa cosa. Se ci sono domande, chiedetemi, io, ripeto, questo è il modo in cui io lavoro, quindi faccio principalmente, bozze, e poi, cerco, praticamente, di mettere tutto in prospettiva, seguendo, più o meno, sempre una prospettiva, a 5 punti, però, ripeto, le basi, sono sempre, parto di tutto, diciamo, dal capire la prospettiva, ad un punto, quindi, un solo punto di fuga, poi, due punti di fuga, tre e quattro, come vi ho fatto vedere, e poi, cinque, se avete il punto centrale, come nel caso del disegno numero 4, in realtà, sarebbe a 5 punti. Io l'ho selezionato come a 4 punti, perché non ne trovavo un disegno, che avevo fatto a 4 punti, perché, di solito, se vado a 4, di solito, passo le tende a 5, e inserisco la, metto tutto a curvo, metto tutto curvo, perché, appunto, bisognerebbe lasciare tutte le linee, che si sono sull'orizzonte, dritte, un po' così, quella a 4 punti, bisogna fare sì che le 1 e 2, sono dritte, io, praticamente, le linee dritte, i miei disegni non ci sanno mai, e quindi, diciamo, che vado sempre a finire, una prospettiva curvilinea, aka, fisheye, o, diciamo, a 5 punti. Però, questo è quanto più, quello che sono riuscito a trovare, quella a 4 punti, mi sembrava, abbastanza efficace. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Io, se avete delle domande, rispondo. Grazie mille, Simone, di questa bellissima presentazione. Grazie a tutti quanti per le domande, e vorrei informarvi che ne abbiamo scelto alcune, come al solito, e vi tengo a dire che faremo del nostro meglio, per rispondere la maggior parte di queste domande, anche se abbiamo, che ne so, solo 10 minuti, 10 minuti circa. La prima domanda è stata fatta da Stefania Alotto, sulla web, e lei ti chiede, Simone, ti è mai capitato di fare un disegno con 5 o 6 punti di prospettiva? Ci puoi fare un esempio di applicazione reale? Dove ha senso usarla, vista la sua complessità? Sì, 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 la 5 punti è questa, praticamente. Sarebbe questo disegno qua. Questo è, come ho fatto a dire, l'ho selezionato come una a 4 punti, però in realtà è a 5, perché, ripeto, ci sta, un attimo, sempre il livello sbagliato, c'è l'orizzonte, che sta proprio, eh, vabbè, c'è l'orizzonte che sta qua, eccoci qua, poi abbiamo punto 1, punto 2, che si collegano nella mia testa, o comunque, come vi ho spiegato, potete farli o dritti, però io vado a curvarli direttamente, li collego, come se fosse una specie di sfera, perché così che va, quando, sì, potete anche fare un, un semplice esercizio, guardare le foto, e vedrete che più o meno, c'è sempre una piccola curvatura che va, cioè è difficile che una foto è perfettamente, infatti di solito le ottiche delle macchine fotografiche vanno a correggere la curvatura, cercando di farle diventare quanto è più dritte possibile, le linee, perché così le persone leggono meglio la foto, però diciamo la base è sempre tutto curvo, quindi questo è un esempio a 5 punti in realtà, perché abbiamo punto 1 e punto 2, come puoi vedere tutte le linee, seguono questi due punti, questi due fuochi, punti di fuoco, e poi abbiamo punto 3 e punto 4, che vanno a collegarsi in questo modo qui, ok, e poi abbiamo punto 5, che si trova dietro la testa della ragazza, che va a collegarsi in questo modo qua, che però appunto, io ho voluto selettivamente non, cioè l'ho selezionata questa foto come a 4 punti, in realtà a 5 punti, appunto abbiamo il quinto punto dritto qua, che però dovrei, nella passata a 5 punti, se andate a cercare pure su internet, vedete che molti usano linee dritte per il quinto punto, in realtà qua io sono andato ad utilizzare linee curve, anche per queste linee qua, quindi fa così, fa così, curvo, tutto curvo, un po' pure diciamo a come viene, nel senso la curvatura ad occhio, cerco di farla venire in maniera interessante, però diciamo che è così, eccoci qua, viene una cosa del genere più o meno, tutte le linee vanno curve, in maniera quanto più conveniente possibile, e questo è a 5 punti, a 6 punti in realtà, forse l'avrò utilizzata, l'ho utilizzata già anche qua, perché se vedi, questo dettaglio qua nell'angolo, va verso una prospettiva che, che in realtà sarebbe un altro punto, credo, non credo sia il, eh sì, perché in pratica ci sono tutte le linee, che si vanno a collegare, alcune di queste linee vanno in una prospettiva, diciamo a se, è come se ci fosse, lo stile a 6 punti sarebbe come se aggiungessimo un altro duplicato, diciamo di questa prospettiva qua, quindi abbiamo un altro punto, qui, che va a fare un'altra croce, diciamo qua, quindi abbiamo il punto 3, che si va a ripetere qua, il punto 4, che si va a ripetere qua, e quindi abbiamo un continuo, delle linee che vanno in questo modo qua, più o meno dovrebbero andare in questo, in questo sistema qua, e quindi queste linee qua vanno a collegarsi in realtà, eh, diciamo che la passione a 6 punti sarebbe come se tu prendessi, e già l'ho spiegato però, è un po' complicato, è come se tu prendessi questo oggetto e cominciava, è come se tu avessi la telecamera, ecco qua, facciamo così, è come se tu stessi vedendo questo, eh, sto cercando di spiegare, in modo più semplice possibile, come se avessi un nastro chiuso in questo modo, e stai guardando, tu stai al centro, ok, e stai guardando semplicemente questo lato qua, questo è quello che stiamo vedendo in questa scena qua che ho disegnato, ma se tu vuoi disegnare anche un po' quello che ci sta sui lati, più diciamo di 180 gradi, questo è 180 gradi diciamo, cioè superi la linea diciamo di dove ti trovi, inizi a dover disegnare quello che sta, diciamo dietro la tua testa, cioè quello che vedi alle tue spalle, e quindi tutto ciò che inizia a diventare, va sempre più verso, diciamo, quello che in realtà dovrebbe essere dietro il tuo, il piano di visione, diciamo dietro di te, diventa uno sette a sei punti, però diciamo che questa è una cosa che io, ripeto, tecnicamente più o meno capisco come va, ma non la uso mai, diciamo a pieno, al pieno, quindi diciamo che è utilizzo, diciamo che di solito mi fermo a quella a cinque punti, che è quella quanto più vicino, secondo me, a una visione umana, diciamo, è quello che più o meno vediamo sempre, però ripeto, quella a sei punti sarebbe, può tornare utile nel caso in cui vogliamo disegnare un grosso panorama, per esempio, e verrebbe fuori qualcosa un po' simile a quello che ho fatto vedere qua, nella illustrazione, della prospettiva a sei punti, verrebbe qualcosa del genere, quindi abbiamo i palazzi qua, su questo lato qua, così, poi se invece abbiamo un arco qui, e poi continua su questo lato qui, però diciamo che un disegno del genere non lo faccio mai, e quindi perciò non, io mi firmo di solito a quella a cinque. Altre domande? Ah sì sì, io sono un sacco, non so di domande per te. Vado velocissimo. Ok, ok, no, no, è stato molto interessante. Adesso c'è una domanda da Stefania, adesso Stefania Bianco, che ti chiedi, quando disegni sfondi così accurati e ricchi di dettagli, riesci a disegnare meglio tutto, oppure usi anche delle referenze? Allora, i riferimenti li utilizzo spesso, a volte no, diciamo che tipo, su questa immagine per esempio, ma non mi ricordo più, passate mesi da quando l'ho fatta, però tipo il personaggio, mi ricordo che avevo trovato una foto di questo personaggio, di una persona, però era un ragazzo, era su una foto su Pinterest, il resto della cucina l'ho inventato, quindi diciamo è tutto inventato, ma ci sono dei disegni dove invece trovo degli sfondi che magari, ecco, tipo per esempio mi pare questo, avevo trovato una foto di un, come si chiama? non so come si chiama questo coso, di una casetta, diciamo di un piccolo chiosco, ecco un chiosco, e ho trovato la foto del chiosco, e ho iniziato a disegnare il chiosco, utilizzando il riferimento, poi ho aggiunto queste case, qua io ho, quindi diciamo è un mix, è un mix tra foto di riferimento, e diciamo immaginazione di solito, a volte completamente immaginazione, altre volte soltanto foto di riferimento per gli sfondi, la prospettiva però è nel 99% dei casi completamente inventata, quindi se prendo una foto, poi la vado a mettere in una prospettiva, diciamo sempre vicina a quello che potrebbe essere una, prospettiva curvilinea, a cinque punti diciamo. Grazie, adesso una domanda da Danila, lei chiede buonasera, io li dico parecchio con la prospettiva, e quando cerco di fare le cose per bene, tendo a mettere gli oggetti in maniera troppo precisa e ordinate, e lei vuole sapere come fare ad aggiungere un po' di caos, così come fai tu. Ok, ottimo, bella domanda, ed esattamente per questo che io tendo a non utilizzare la griglia, e non mi interessa nemmeno più che altro di andare troppo in dettaglio, una volta che più o meno sono riuscito a capire come va la prospettiva, proprio per la questione di non farmi imbrigliare, diciamo dalla prospettiva, tendo ad andare a occhio, in modo tale che posso liberarmi di tutte quelle griglie, guide, che vanno un po' a mettere, che va sempre a finire, che praticamente andiamo a disegnare roba tipo, cioè che deve eseguire sempre, abbiamo l'orizzonte, abbiamo le linee così, andiamo a mettere tutto in prospettiva, un po' fanno tutti quanti così, e poi diventa una palla di disegno, scusate il termine, cioè diventa proprio noioso il disegno, è tutto dritto, e poi appunto subito le persone vanno in crisi, appena c'è l'oggetto che va, ma questo è storto, quindi come si fa? Bisogna poi andare a tirare di nuovo tutte le linee, perché il fuoco, i punti di fuga della prospettiva sono cambiati, quindi va rifatta, diciamo se abbiamo un cubo che va fuori prospettiva, tipo così, può succedere nella vita che non tutto è allineato perfettamente, non tutti i palazzi stanno messi a 90 gradi, ce ne sia qualcuno che va un po' fuori griglia, e quindi bisognerebbe poi andare a ritirare di nuovo tutte le linee, tutto eccetera eccetera, in questo modo, e diventerebbe un casino, mentalmente comincia a dire da proprio faticoso pensarlo, e quindi quello che il mio sistema è, non guardare la griglia, disegna il tuo personaggio, ok? e quindi inizia a disegnare, che ne so, vuoi una casa qua, e metti la in prospettiva come ti pare, cioè che deve sembrare, diciamo ovviamente minimamente a occhio, che deve sembrare corretta, poi per esempio metti un altro palazzo, che stai vedendo, in questo caso per esempio la casa è dal basso, quindi metti un altro palazzo dal basso, così qua, poi metti un altro qua, e poi metti, che ne so, capito, un gatto qua, insomma, disegni tutte le cose, poi dopo, una volta che hai finito tutta sta roba qua, mi sto improvvisando proprio, c'è l'osservatorio spaziale qua, e una volta che hai finito tutto, tira poi a questo punto delle linee, cerca di metterla, cerca di capire che tipo di prospettiva ti serve, cerca di capire dove le linee di fuga vanno a finire, e appunto la sistemi, però prima, il punto è, prima metti giù tutti gli oggetti, e la prospettiva fa la naso, un po' come se, cerca di immaginare se ti trovassi lì, sul posto, come sembrerebbe, disegnalo, se sembra una schifezza va bene, tanto poi puoi sempre andare a disegnarci tutte le linee di guida, tutte le linee di guida che ti servono, e poi vai a correggere tutte le prospettive, te le metti tutte le mani in prospettiva, ad esempio vuoi fare il palazzo un po' più così, e quindi vai a correggerle, ma non fare l'opposto, e un altro trucchetto che utilizzo, è disegna per esempio la linea, disegnato il personaggio, disegnato la linea d'orizzonte, tutto quello che è sopra l'orizzonte lo vedi dal basso, di solito, e quindi per esempio avrai, che ne so, c'è l'aereo, lo vedi dal basso, così, però se c'è il gattino lo vedi dall'alto, perché sta sotto la linea d'orizzonte, e quindi questo semplifica un po', non c'è bisogno di fare nemmeno punti di fuga, né niente, semplicemente inizia già a disegnare tutti gli oggetti che stanno sopra la linea d'orizzonte, dal basso, e tutti gli oggetti sotto la linea d'orizzonte, dall'alto, e questo semplifica la vita, tutto quello che sta in mezzo, valla a curvare un po', così tipo per esempio, e ti troverai, cioè che tutto più o meno si trova, poi vuoi andare pure dritto, non c'è bisogno di fare così, quindi farei una cosa del genere, non so questa persona in che spazio si trovi in questo momento, però immagino, non so se rendo l'idea, però appunto parti prima dagli oggetti, disegna prima tutto, poi correggi con la guida, e tutto ciò che è sopra la linea d'orizzonte, cerca di farlo dal basso, almeno così hai una mezza idea di dove stai andando, e tutto ciò che è sotto la linea d'orizzonte, fallo visto dall'alto, così non vai proprio assurdo, cioè non è che disegni tutto ciò che sta sotto la linea d'orizzonte, dall'alto, dal basso, cioè tipo è come se disegnassi l'aereo sotto la linea d'orizzonte, dal basso, così sembra che il tizio sta volando, sta nel cielo, e non va bene, ed è molto poco realistico, a meno che non è quello lo scopo, spero di essere abbastanza chiaro, e non troppo confusionario. Grazie Simone ancora, e c'è un commento qua da AS, giustamente per il webinar italiano, non vuoi finire con l'immagine di una, che si mangia la pizza, comunque grazie a molti del webinar, nonostante tutti gli anni di studi sul disegno, non avevo mai letto che esistessero prospettive a 5 a 6, follia, 5 a 6 punti, sono contento di aver imparato queste cose, e come usarle, e c'è ancora un'altra domanda qua, aspetto un attimo, a una domanda da Tiziano Lena, ciao, mi chiedo la distanza dai fuochi, dalla tua area di disegno, influenza molto la distorsione, giusto? Sì, 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 ovviamente sì, vabbè, diciamo che in maniera canonica, quanto più, se tu hai un'area di disegno, che diciamo è questa qui, quanto più distanti i punti sono, meno distorta la prospettiva sarà, e quindi sarà molto più semplice andare a lavorarci, quindi se anche ci fosse una curvatura, tipo del genere, se i punti stanno molto, molto lontani, se abbiamo studiato un minimo, diciamo, di fisica, cioè diciamo li possiamo, possiamo assumere che le linee siano parallele e verticali, diciamo, se i punti sono distanti, anni luce, diciamo dal nostro, dal nostro foglio, diciamo, dal nostro, dalla nostra, come si chiama, area di lavoro, diciamo possiamo assumere che tutte le linee sono verticali, sono perfettamente parallele tra di loro, e tutte le linee orizzontali sono perfettamente parallele, la distorsione avviene quando appunto, noi stiamo andando a cercare di prendere quanto più, quanto più area, diciamo quando ci stiamo cercando di avvicinare, quanto più possibile a una visione a 180 gradi della scena, o a 360 nel caso di quella a 6 punti, 5 punti sono 180, diventa 360 con quella a 6 punti, e quindi significa che in pratica abbiamo fatto il nostro, significa che per prendere quanto più, diciamo, tutto ciò che possiamo prendere, dobbiamo andare ad allargare il nostro campo, e quindi i fuochi inizieranno ad andare quanto, all'interno quasi, della nostra area di lavoro, in quella a 6 punti appunto, vanno a finire addirittura all'interno della nostra area di lavoro, e quindi avremo appunto, questo disastro qua, che andiamo a vedere qua, come puoi vedere, il piano di lavoro, comprende quasi tutti i punti, e se andiamo ad allargarlo ancora di più, li mette all'interno, quindi più distanti li mettiamo dal foglio, più la nostra prospettiva sarà simile a quella ad un punto, a due punti, a tre punti, quindi possiamo andare a, diciamo, a immaginare che le linee siano perfettamente dritte, quanto più sono all'interno, comincia a diventare appunto distorto, oppure curvilinea, quindi la roba inizia a diventare più complicata. Ok, e un'ultima domanda per chiudere, purtroppo non abbiamo molto tempo, ma vorrei chiederti, cosa ti ha spinto a diventare un illustratore professionista? Io, diciamo che ho sempre disegnato sin da bambino, e una volta che ho finito, ho fatto il liceo, ho avuto tutti i disagi possibili nella decisione ovviamente di intraprendere, ho sempre disegnato, però sono quelle cose che uno non ci ha mai creduto, anche perché poi la famiglia, gli amici, nessuno mai dice, sì sì, mettiti a fare il disegnatore, però dopo un po' di, diciamo, di anni che ho fatto, passato ho fatto tre anni di ingegneria, dove ho studiato varie cose, diciamo, ingegneria informatica, ho sempre continuato a disegnare, anche durante, ed era l'unica cosa che, diciamo, mi interessava, e trovavo interessante, e mi sono sempre stata una persona molto creativa, e mi annoiavo troppo, a fare, diciamo, roba da ingegneri, che rispetto tantissimo, mio fratello è ingegnere, però il punto è che mi piaceva fare cose creative, ho iniziato a vedere all'epoca che c'era possibilità, diciamo, c'era un potenziale per poter creare una carriera, anche tra l'altro da libero professionista maggiore, grazie a internet, diciamo, tutti gli strumenti che si possono trovare, e quindi decisi all'epoca di abbandonare l'ingegneria, a descrivermi all'Accademia di Belle Arti, seguendo finalmente, diciamo, un po' la mia distorsione, diciamo, cioè, il mio modo di pensare, diciamo, e l'Accademia di Belle Arti in realtà non ho fatto illustrazione, ho fatto, diciamo, ho lavorato molto con altri tipi di, appunto, ho studiato storia dell'arte, ho fatto fotografia digitale, video, però diciamo che, parallelamente ho sempre continuato a disegnare, perché è sempre stato un pallino fisso, capito, per me disegnare, imparare a disegnare, e ho sempre continuato a farlo, fin quando poi, una volta finita l'Accademia, ho deciso, vabbè, che faccio, mi sono trovato a fare il disegnatore per un'azienda di videogames, però non mi piaceva lavorare in azienda, non era una cosa che faceva per me, e quindi ho iniziato a dire, ho iniziato a fare la mia carriera da freelance sui social media, e mi sono iniziato a lavorare duro, forse molto di più di quanto poi lavoravo per, quando stavo in azienda, o lavoravo per qualcuno su commissione, lavorare da freelance, mi sono iniziato a lavorare tutti i giorni, a pubblicare, a cercare di migliorare anche quello che facevo, darmi una scaletta, a fare streaming su Twitch, per esempio, che mi ha dato anche un ritmo, diciamo, al lavoro, e niente, mi sono ritrovato a fare un po' quello che poi è sempre stato in fondo quello che mi è sempre piaciuto fare, cioè essere creativo, divertire le persone, mi è sempre piaciuto anche, sai, disegnare per, un po' per rendere le persone felici, no? Cioè, quando, perché sin da piccolo, quando, quando vedevo le persone apprezzare i miei disegni, vedevo che erano felici, quindi è una cosa che mi ha sempre gratificato, diciamo, anche, raccontare storie, disegnare, fare ritratti, ispirare le persone, mi ha sempre gratificato in qualche modo, e forse adesso capisco perché, perché in fondo è bello ispirare gli altri, e poi fare un po' quello che cacchio mi pare, è sempre stata un po' la mia passione, nel senso, sempre pieno di idee, sempre pieno di cose da fare, e diciamo, non mi sono mai voluto ristringere all'interno di una carriera che non mi permettesse di fare quello che volevo, e quindi inizi a fare illustratore freelance, e cosa, da cosa nasce cosa, e mi sono ritrovato a fare anche lo streamer, e appunto a lavorare come illustratore, e poi a un certo punto, diciamo che la cosa è ingranato, e mi sono ritrovato a farlo per davvero. Ah, che bello, sei riuscito a fare del tuo hobby, il lavoro, non c'è cosa più bella secondo me, di lavorare come cose di più. No, ma infatti sono veramente felicissimo. Fortunato. E anche fortunato, no? Anche, anche, anche. C'è assolutamente, questa è una cosa che, di solito è un argomento di cui parlo spesso, anche durante i mi stream, però, perché è una domanda classica, tutti mi chiedono, ma si può fare oggigiorno, a diventare, a lavorare, a fare il tuo hobby. Sì, ma anche no. Cioè, nel senso, ti devi fare sicuramente un sacco, cioè, diciamo, ti devi sicuramente mettere, con la testa e col pensiero, e non è una cosa che, cioè, uno dice, io lavoro, faccio illustratore, come, diciamo, cosa semplice da fare, che puoi stare tranquillamente, e fare quello che vuoi. Oggi non voglio lavorare, non lavoro, no, è come avere un'azienda tua, su cui tu lavori, 24 ore su 24, e poi, diciamo che, in più, si aggiunge il fatto che, devi, ti devi saper buttare, nelle occasioni, devi avere pure capacità, di organizzarti, e di organizzare, e poi il pizzico di fortuna, ci sta. Però io dico sempre, come dico sempre a tutti, c'è, il pizzico di fortuna, serve poi, proprio per sfondare, io sono dell'idea, che se uno veramente, vuole fare il disegnatore, come lavoro, ci si può riuscire, è chiaro che ci sono vari, diciamo, livelli, cioè ci sta quello che, magari fa il disegnatore, per l'azienda XY, e ovviamente, non è che poi, fa proprio, cioè perché magari, non è riuscito poi, ad ingranare, all'interno di certi meccanismi, che lo portano a fare, sempre, solo quello che vuole, e altre, diciamo che, se però, uno lavora tutti i giorni, e c'ha le idee chiare, su dove vuole andare, io credo che, e questa è una cosa che dico sempre, veramente, chiunque può arrivare, però, forse, l'unica cosa che voglio dire, è che io ho avuto anche la fortuna, e questo lo dico sempre, perché voglio essere chiaro, di essere stato aiutato all'inizio, cioè quando io, ho lasciato il lavoro, ho finito l'università, e mi sono messo a fare streaming, e a disegnare, a pubblicare, non è che subito, ho fatto follower, e ho pure persone, che mi donavano su Patreon, o cose del genere, questa è una cosa, che mi è successa col tempo, all'inizio, ovviamente ho dovuto ingranare, e ho avuto l'aiuto di amici, famiglia, quelle poche persone, che mi hanno dovuto supportare, ed è questo importante da dire, però, diciamo che, io sono dell'idea, che è veramente una cosa, che tutti possono fare, però, molti, secondo me, iniziano con la psico, cioè con l'idea sbagliata, che, secondo me, da lavorare da freelance, lavorare come illustratore, freelance, diciamo, senza lavorare in un'azienda, diciamo, e, diciamo, oggi non voglio lavorare, non lavoro, domani, vabbè, poi lo faccio, poi rimando, cioè questo, io ho visto molte persone fare una cosa del genere, e, e quello, è raro, che riescono poi a, effettivamente a riuscire, quelli che riescono, e ne ho visti molti riuscire, sono quelli che invece, la prendono in maniera professionale, lavorano in maniera professionale, sicuramente aiutati, quanto più possibile, da amici, parenti, o se loro hanno un gruzzolo da parte, gli elessi da qualche parte, che, con diecimila dollari, di, diciamo, è abbastanza, che inizia una carriera freelance, secondo qualcuno, su internet, gli elessi, diciamo, ci vuole un inizio, diciamo, da qualche parte, però, molta, molta costanza, molto, è importante anche la coerenza, un po', no? Cioè, quindi, non andare, vedo molte persone, per esempio, iniziano a fare una cosa, poi ne passano a fare un'altra, quello fa rallentare il processo, quindi, è importante avere minimamente le idee chiare, sì, su dove si... sono d'accordissimo, e Simone, grazie mille di essere stato con noi, purtroppo il nostro tempo è scaduto, ho ricevuto qua un messaggio da Mario, dell'elettroscera, ma vorrei ringraziarti tanto per esserci con noi, per averci fatto vedere la tua prospettiva, e grazie ancora a tutti quanti di essere venuti, ci siamo voluti un sacco, e aspettiamo di vederti nei prossimi webinar. Grazie mille, grazie, grazie mille per... alla prossima! Alla prossima! Allora ragazzi, vi aspettiamo nei prossimi eventi, e vi prego di seguire Graphicsly, Clip Studio Paint, e Wacom nei social, se volete avere più informazioni sul lavoro e carriera di Simone Ferriero, potete anche seguirlo, grazie mille, e buona serata a tutti! avanti all'inposta a tutti! Grazie a tutti